A giorni potranno riprendere i lavori di realizzazione dell'area polifunzionale per la riqualificazione di via Salso destinati ad area mercato. Ad affermarlo, con certezza, è il sindaco Angelo Cambiano, a seguito di quanto comunicato nei giorni scorsi del dirigente dell'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Calogero Franco Fazio, con una nota pervenuta al Comune, nella quale è specificato che il Dipartimento ha già avviato le procedure per l'iscrizione in bilancio delle somme sul competente capitolo di spesa, al fine di emettere il decreto di finanziamento e contestuale impegno che sarà soggetto a registrazione presso la Corte dei Conti. Questa amministrazione, si legge nella nota a firma di Fazio, nell'emore può avviare le procedure per la riconsegna dei lavori, avendo cura di trasmettere a questo Dipartimento tutta la documentazione relativa alla ripresa dei lavori. Il Dipartimento provvederà appena in possesso del decreto di impegno registrato all'erogazione delle somme necessarie per l'esercizio in corso, con espressa riserva di recupero delle stesse, in caso di esito negativo per l'amministrazione dal contenzioso in atto. Ma a tal proposito, occorre l'obbligo a rilevare che la terza sezione del Tarra di Palermo, con ordinanza del 23 settembre scorso, accogliendo le motivazioni esposte con il ricorso presentato dal Comune di Licata, avverso la sospensione del decreto del 21 luglio 2014, con il quale l'assessorato aveva revocato il finanziamento, ha disposto nell'emore della definizione del giudizio il versamento delle somme oggetto di finanziamento decurtate del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni delle comunicazioni o notifica dell'ordinanza. Da ciò quindi la lettera dell'assessorato con la quale è stato autorizzato il Comune ad avviare le procedure per la riconsegna dei lavori.